Poi il primo noi abbiamo a disposizione pappardelle a lana, pappardelle al cinghiale, gnocchetti alla colla e scipolana, ciriole alla ternana, ciriole alla boscagliora, fettuccine con i funghi porcini, ciriole condite con paghino, rubla, noci e grana, fettuccine alla pecorara condite con ricotta pancetta, pecorino e ricotta salata, tagliolini, barbazza, pomodoro e maggiorana e ciriole al laghetto condite con zucca, salsiccia e pomodori paghino saltati in padella con un po' di grana.